Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna chiusura i mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di varico Baccheraia e Aglio. In direzione Bologna rallentamenti per traffico tra il bivio A1-A11 Firenze Nord e il bivio A1 variante. In A11 coda per incendio tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. In Fipilì coda in uscita la strassigna provenendo da Firenze. Si viaggia rallentati per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo in direzione Livorno. Per lavori di riqualificazione tra Montelupo ed Empoli Est, fino al 30 maggio è previsto il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Firenze, con la completa chiusura della carreggiata in direzione Mare. Lo svincolo di Montelupo resta chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!